Allora, il nostro compito per oggi, già lo sappiamo, è quello di dare un'occhiata alle categorie di collection, alle categorie di strutture dati che ci sono rimaste da affrontare, per le quali c'è qualche novità in più rispetto alle strutture dati che già conoscevamo e che abbiamo brevemente accennato la volta scorsa. Allora, il primo gruppo è quello degli insiemi, dove noi conoscevamo già il tipo di dato predefinito set, ricordiamocelo, il set è un contenitore di oggetti che devono essere internamente immutabili e devono avere una funzione di hash chiaramente immutabile che dà sempre lo stesso valore, hanno una caratteristica che contengono oggetti distinti tra di loro, quindi sono oggetti che devono essere confrontabili, deve esserci definito il metodo EQ per poter capire se questi oggetti sono uguali o diversi e rifiutare la compresenza di oggetti. La cosa che inizialmente ci lascia sempre un po' strana è che un set è un contenitore mutabile, quindi vuol dire che il contenitore può essere variato, cioè posso aggiungere o togliere elementi, ma gli elementi contenuti invece devono essere immutabili, ma il set di per sé è mutabile. Questo vuol dire che un set non può essere usato a sua volta dentro un altro set, non posso fare un insieme di insiemi, perché l'insieme stesso è mutabile e quindi non può essere un elemento di un insieme, così come non posso usare un insieme come chiave di un dizionario, perché dovrebbe essere immutabile l'insieme stesso e non lo è. Allora per venire incontro a queste esigenze esiste un altro tipo di, ho fatto una sottoclasse di set che si chiama frozen set, che come dice il nome è un set congelato, il cui contenuto non può più essere modificato e quindi diventa esso stesso immutabile. Quindi un frozen set è un set di elementi immutabili che esso stesso come contenitore è immutabile, quindi non posso più né aggiungere né togliere elementi né modificare gli elementi stessi, i valori, le proprietà degli elementi stessi. Quindi questo può essere utile, a questo punto un frozen set può essere usato all'interno di un insieme, quindi se devo creare insiemi di insiemi o cose di questo genere, posso usare questa struttura dati, no? Chiaramente come caso particolare. Ecco, di solito come faccio a costruire un frozen set? Perché se nel momento in cui lo costruisco non lo posso più modificare, come faccio a metterci dentro gli elementi? Allora normalmente quello che si fa è che si costruisce un set aggiungendo gli elementi man mano che mi servono e poi una volta che io so che non dovrò più aggiungere nulla, costruisco un frozen set inizializzandolo con il set, quindi avrò nuova struttura immutabile uguale a frozen set tra parentesi la variabile che conteneva il set che prima era mutabile, quindi lo costruisco di solito a partire da un insieme esistente. Ma questa è l'unica particolarità oltre, diciamo così, a ciò che già conoscevamo dagli anni precedenti dell'insieme. Ma il titolo di questa categoria è insiemi e multiset. Allora multiset è un termine un po' ampio, matematicamente, che può indicare o insiemi di insiemi, quindi insiemi su più livelli, oppure insiemi i cui elementi possono comparire più volte. Multiset è un insieme in cui io metto dentro i calzini e alla fine ho verdi, rossi e gialli, sì, ma avrò sette verdi, due rossi e quattro gialli. Quindi i duplicati vengono riconosciuti, ma anziché essere ignorati ne viene tenuto il conteggio in certo senso. Allora questo concetto viene mappato in Python attraverso una classe utilissima che si chiama counter. Questa classe counter risolve tantissimi problemi pratici, cioè che ti permette di ridurre a un'istruzione o due quello che normalmente richiederebbe magari un ciclo, una struttura di appoggio, eccetera, eccetera. Un counter, vediamolo in modo più semplice, io ho preso una lista di numeri, ok, e l'ho usata come argomento per inizializzare un oggetto di tipo counter dentro il modulo collection, quindi collection.counter. Questa che cosa fa? Un counter è un insieme con molteplicità, un multiset. Quindi innanzitutto per la sua natura di insieme lei va a identificare gli elementi univoci. Quindi dentro l'oggetto counter ci sarà uno, ci sarà due, tre, quattro, cinque e otto. Io li ho colorati con colore diverso per riconoscerli. Ma associato a ciascuno di questi c'è anche un conteggio. Quindi il counter si ricorda, guarda che c'è un tre, e l'ho visto quattro volte. C'è un due, l'ho visto tre volte, l'uno l'ho visto due volte, il cinque l'ho visto due volte, otto due, otto l'ho visto due volte e quattro compare una volta sola. Quindi lui ne dà questo scritto, questa seconda riga mi viene fuori dalla repra dell'oggetto, quindi come l'oggetto si presenta a se stesso, agli altri. E di fatto si presenta come se fosse un dizionario, un mapping tra i valori che ha riscontrato e il numero di volte che questi compaiono. E se ci pensiamo è la struttura dati che useremmo sempre se ci dovessero chiedere, ma senti, ma qual è il numero più frequente in questa serie? Allora noi costruiremo che corre? Un dizionario in cui usiamo come chiave i valori che incontriamo e come value del dizionario un numero che si incrementa. E dovremmo elaborare vari elementi e costruire questo dizionario. L'oggetto counter fa già questo per noi. Quindi quando abbiamo degli elementi e vogliamo raggrupparli per gruppi di elementi uguali, quindi non è solo contare, è una cosa un pochino più di alto livello che ci fa fare il counter, possiamo creare un oggetto counter fornendogli gli elementi. E una volta che gli elementi li ho dentro posso estrarre, sempre attraverso i metodi della classe counter, una serie di informazioni statistiche, semplici per carità. Prima di passare alla storia successiva a vedere i metodi, ricordiamoci che questo internamente ragiona sull'uguaglianza o no degli elementi, quindi gli elementi che posso mettere dentro un counter devono essere immutabili, perché devono essere gli stessi che potrei mettere dentro un set, essere gli stessi che potrei usare come chiave di un dizionario. Quindi questo giochino qua ha senso solamente per oggetti che siano confrontabili, quindi sono definiti equals e immutabili, perché per fare questo lavoro lui ha bisogno di poterli mettere dentro un set o dentro un dizionario. Quindi la classe counter può essere inizializzata con nessun elemento oppure con un qualunque oggetto iterabile, ad esempio in questo caso l'ho inizializzata con una stringa e lui va a spacchettare la stringa, iterare su una stringa significa avere i singoli caratteri, quindi in questo caso mi dirà questo counter che la G compare una volta, la A compare due volte, la L compare due volte, l'A compariva tre volte e così via. Da buon dizionario l'ordine con cui vedo gli elementi è l'ordine di prima apparizione. No, non è vero. In questo caso l'ho messo in ordine di frequenza decrescente, scusate. Ma poi li posso estrarre come voglio. Posso passare al counter una lista e a questo punto ci sarà a questo punto due, la chiave è una stringa e il valore in questo caso sarà x1 e m1, posso già passargli dei conteggi parziali. Guarda, io ti so da dire che ci sono quattro colori rossi e due blu, costruisci un oggetto counter che mi può servire per avere i metodi di counter oppure per aggiungere altri oggetti a loro volta, oppure la stessa cosa la posso dare specificando i parametri. Quindi i parametri sono direttamente come argomenti anziché come dizionario. E quindi di fatto quando io creo un counter da una serie di dati, in questo caso l'ho messo sotto forma di liste, è come se facessi questo giochino qua. Avessi una classe counter, un dizionario che indicizzo per parole e per ogni parola incremento di 1. Quindi counter di red diventa 1, di blue diventa 1, di red diventa 2 perché prima era già 1. Queste due istruzioni in realtà scritte così non funzionano perché in un dizionario normale non posso incrementare un campo che non esiste ancora. E quindi lo dovremmo scrivere ad esempio usando il metodo get, count.get word virgola 0, cioè dare il valore di default. Oppure usare, l'abbiamo visto velocemente la volta scorsa, la classe default dict, che è un dizionario in cui se cerco di leggere un valore non esistente anziché darmi errore mi restituisce il valore di default, in questo caso 0. Questa logica qua che è quella che poi richiede per fare questi lavori di statistica in certo senso, semplice statistica, di conteggio, richiede 4-5 righe di codice e alla fine counter ce la sintetizza molto. Ma soprattutto ce la sintetizza perché mi permette poi di interrogare i dati che ha. Perché tutto sommato fare il conto è facile ma poi dopo uno dice ma allora una volta che hai i conti qual è quello più frequente? Qual è quello che è il conteggio maggiore? O meglio quali sono i 5 che hanno i conteggi maggiori? I top 5, quali sono? Allora queste risposte qua mi arrivano dal metodo most common dell'oggetto counter. Quindi ho dei dati, li metto dentro counter, chiedo most common di 1 e mi dice l'elemento che compare più volte. ed è tutto sommato due righe di codice e mi evita di dover costruire un dizionario, incrementarlo eccetera eccetera. Quindi questo è molto comodo questo oggetto qua. Poi vabbè ci sono altre funzioni. Convertire in lista. Convertire in lista mi dà gli elementi che compaiono senza il loro conteggio. Quindi la stessa cosa che quando prendiamo un insieme e lo convertiamo in lista abbiamo gli elementi. Anche qua si perde il conteggio. Quindi potrebbe essere un modo per dire metto da un control counter e converto in lista ho unificato gli elementi. Total mi dice il numero totale non di elementi che ci sono, quello metterrebbe il length, ma di somma delle frequenze. Cose di questo genere. Qui ci sono alcuni esempi, vabbè convertire insieme, convertire in un dizionario, estrarre sotto forma di lista gli elementi contatori. Quindi se io lo converto in un dizionario mi dà questo dizionario qua. Ma se voglio anziché come dizionario e chiave valore lo posso convertire con items in una lista di tuple. Alla fine sono sempre queste tuple, saranno sempre la chiave e il valore. Dipende da cosa ci devo fare. Quindi è facile buttare dentro gli elementi e è facile estrarre gli elementi. C'è, vabbè questo qua è un esempio un po' strano perché Moscommon ti dice dammi gli n col punteggio più alto. E se io volessi gli n col punteggio più basso? Beh non è un problema perché Moscommon me li dà tutti ordinati. Dal più al meno frequente. Quindi basta che io prenda questo Moscommon e vado a prendere non i primi n ma gli ultimi n, quindi con un range che parte dal fondo. Moscommon senza nessun argomento me li dà tutti, mi li darebbe tutti. In ordine mi darebbe questa lista qua, 3, 2, 1, 5, 8, 4, in ordine decrescente di frequenza. Non mi dà le frequenze, mi dà solamente i valori. E quindi se prendo i primi elementi di questa lista che esce fuori da Moscommon mi dà i più frequenti. Se prendo gli ultimi elementi di questa lista mi darà i meno frequenti, dipende ovviamente da che cosa mi serve. Quindi teniamolo presente tutte le volte che mi viene in mente devo contare il numero di volte che, contare gli elementi che, anziché metterci a contarlo a mano, possiamo usare un oggetto counter. Poi appunto matematicamente ha questo nome strano di multiset, ma poi in pratica no, gestisce frequenze essenzialmente. Ok, poi questi due blocchi li ho rappresentati insieme, perché in qualche modo sono incarnazioni diverse di una stessa struttura dati sequenziale. Allora qui ho provato a disegnare la differenza tra due code, tra due sequenze di elementi che vengono alimentate e disalimentate in modi diversi. Cioè immaginiamo di avere un insieme di elementi a cui ogni tanto devo aggiungere qualcosa e da cui ogni tanto devo estrarre qualcosa, no? Penso a tutti i problemi di logistica, magazzino, cose di questo genere, o degli arrivi e delle uscite. E questi arrivi e queste uscite possono seguire logiche diverse. Allora, le due logiche più semplici sono quelle del first thing first out e quelle del last thing first out. in, diciamo così, in gergo, quando parliamo di una procedura, cioè un processo first in first out, tendiamo a chiamarlo coda. Una coda perché gli elementi che arrivano come dal banco della gastronomia ti metti in coda dopo l'ultimo che era arrivato e quindi il prossimo che verrà chiamato era quello che è lì in coda da più tempo, era arrivato prima. Quindi gli elementi vengono estratti nell'ordine in cui sono arrivati. La lunghezza della coda è variabile, non posso avere nessuno in coda, quindi quando arrivo sono l'unico, posso avere dieci persone, questa coda può crescere, può decrescere, no? A seconda del rapporto, della differenza tra gli arrivi e le partenze, tra l'ingresso e le uscite. quindi visivamente, ma questo non è come lo implemento, non necessariamente lo devo implementare così, ma visivamente la coda me la posso vedere, come questo disegnino qua fatto in blu, ho una sequenza di elementi che sono già in coda, quando arriva uno nuovo lo aggiungo sempre dallo stesso lato, ad esempio a destra, quando mi serve estrarre un elemento lo estraggo sempre dallo stesso lato, ma che sia quello opposto, così ad esempio a sinistra. Quindi questo mi garantisce il fatto che l'elemento che estraggo è il più vecchio e quello che è in coda da più tempo. Ovviamente l'operazione di aggiunta concettualmente si può sempre fare, a meno che io abbia deciso che la coda deve avere una capienza massima. Se dico guarda che poi più di 10 in coda non li posso accettare, allora vuole dire che quando ci sono già 10 l'operazione di aggiunta di accodamento fallisce. Però saranno le varie strutture dati che dicono io accetto un numero di elementi limitato oppure ho una coda di lunghezza massima definita. E così l'estrazione o il disaccodamento di un elemento può avvenire chiaramente solo se c'è almeno un elemento. Quindi sono operazioni che in alcuni casi possono essere non fattibili, cioè possono darmi un'eccezione, ma questo già lo sappiamo, se su una lista cerco di cancellare l'elemento, il pop dell'ultimo elemento e questa lista contiene già zero elementi e mi dà un errore. FIFO. Invece una logica di tipo LIFO, cioè last thing first out, ogni volta mi estrae l'ultimo elemento che è arrivato. E noi in gergo lo chiamiamo stack, non è last, ma last, è scritto male qua sotto, c'è un errorino qua, last, lo chiamiamo stack perché si comporta come una pila di oggetti, il concetto di pila è che io prendo un oggetto, ne metto un altro sopra, ne metto un altro sopra ancora e quando devo stare in oggetto non posso fare altro che prendere quello che è in punta, la pila, cioè l'ultimo che ho messo dentro. Semplicemente questione di nomenclatura. Coda, FIFO, stack, pila, LIFO. Ecco, visivamente se uso la stessa metafora grafica, una coda first in first, LIFO, uno stack, lo posso vedere come un insieme di elementi in cui aggiungo o tolgo sempre dallo stesso lato, o sempre da destra, o sempre da sinistra, dipende un po' come ve lo volete vedere, è indifferente, o dall'alto o dal basso, non importa come lo disegnate, l'importante è che il lato da cui aggiungo deve essere sempre lo stesso ed è anche il lato da cui vado a estrarre gli elementi. Quindi, poverino, questo povero sfigato che sta qua in fondo non potrà uscire dallo stack fino a quando non sono usciti tutti gli altri che sono arrivati dopo di lui. Può sembrare ingiusto, poverino, ci sentiamo un po' di empatia per quel quadratino, ma in realtà succede in molti casi. Pensate quando scrivete un'espressione matematica, la prima parentesi che aprite è l'ultima che chiudete, quindi prima di arrivare a fare quel conto lì, che è quello più esterno, devi aver fatto tutti i conti più interni che sono arrivati dopo, ma li devi fare prima. Quindi quando devo trattare delle strutture dati con un annidamento di elementi all'interno di altri elementi, e lo vedremo nei grafi, questa è una strategia che di solito è più comoda, più facile da usare che non la strategia first in first out, quando ovviamente non c'è nessun problema di tempo di attesa, non la vediamo come una cosa di persone questa perché non avrebbe senso, ma una serie di cose in sospeso, a volte c'è qualcuno di questo genere che fanno quei discorsi, poi a un certo punto apre una parentesi, poi a un certo punto passa un'altra cosa, e tu sei sempre lì che speri che riesca a tornare all'inizio e non perda poi il pezzo di metano. Allora, come possiamo implementare queste strutture dati che ho descritto finora in modo astratto? Ho detto che cosa si può fare? Allora, come le posso implementare? Uno può dire, ma questa roba qua la implemento come una lista. Cioè se questa fosse una lista, questa sequenza s, la creassi come lista, allora quali sono le operazioni che posso fare su una lista per farla comportare come una cosa fifo? E posso aggiungere gli elementi in fondo ed estrarre gli elementi all'inizio. Ok? Per aggiungere gli elementi in fondo ho append che funziona già bene. Per estrarre gli elementi dall'inizio, dal primo elemento, ad esempio ho il metodo pop che senza argomenti mi restituirebbe l'ultimo elemento, ma con un argomento mi restituisce l'elemento che sta all'indice dato dall'argomento. E quindi il primo elemento lo posso estrarre con pop di zero. Quindi funziona tranquillamente. Una lista in cui io, programmatore, decide di usare sempre appende per aggiungere un elemento e pop di zero per estrarre un elemento si comporta come una cosa fifa. Poi c'è un punto d'attenzione qua che dice attenzione che pop di zero è un'operazione più lenta rispetto all'append per il semplice fatto che nella lista gli elementi devono essere consecutivi e se ne tolgo uno tutti gli altri devono spostarsi indietro in una posizione. Quindi non è tanto il problema di togliere il primo elemento e far spostare gli altri. E l'operazione di spostamento indietro in una posizione degli altri elementi impiegherà tanto più tempo quanto più è lunga la lista. Quindi l'operazione di estrazione del primo elemento ha un tempo di esecuzione che è proporzionale alla lunghezza della lista. Mentre invece aggiungere in coda, o per questo motivo togliere dalla coda, non dipende, è un tempo di esecuzione che non dipende dalla lunghezza della coda stessa. Quindi questo ci fa dire, ma ok, una lista si può usare, vediamo poi se ci sono i modi migliori che non incorrono in questo problema. Mentre invece per uno stack non ho problemi ad usare una lista, chiaramente. Nel senso che l'append la aggiungi sempre in fondo e pop senza argomenti togli dal fondo. Allora cancellare un elemento dal fondo non richiede di spostare nulla, perché gli altri prima vivono e continuano a vivere sempre allo stesso indice in cui vivevano prima. Quindi in questo caso dici ma devo implementare uno stack first in first start, benissimo, fai una lista e poi ti metti d'accordo con te stesso, usare sempre append quando aggiungi, che è la cosa più naturale da fare in Python, e usare sempre pop quando estrai un elemento. E ti estrarrà sempre l'ultimo, cioè l'ultimo che è il più recente da quelli che ho fatto append. Quindi già una lista la possiamo già usare per implementare queste due modalità di funzionamento. Ma poi esiste invece una struttura dati specializzata, quando vogliamo fare queste cose, che si chiama DEC. DEC si pronuncia come fosse un DEC of cards, un mazzo di carte, come fosse scritto di 10K. Ma in realtà è scritto con la Q, è la contrazione di double-ended Q, una coda a due teste. Cioè è una struttura dati che funziona come una coda di elementi, ma può essere alimentata e disalimentata indifferentemente dai due dati. Quindi ha, come tutte le liste, è una specializzazione di lista. Il metodo append è il metodo pop, chiaro. E quindi lo può solo usare, come abbiamo visto, come uno stack. Ma ha anche due metodi nuovi che le liste non hanno, che si chiamano append left e pop left. Come dice il nome, per aggiungere un nuovo elemento da sinistra o per rimuovere un elemento da sinistra. Quindi pop left è la stessa cosa di pop 0, funzionalmente. Append left di un nuovo elemento è la stessa cosa di insert. Insert è 0, elemento. Ricordiamo che nella lista c'è il metodo insert che mi permette di aggiungere un elemento in una posizione qualsiasi e spostare gli altri a destra per fare gli spazi. La differenza tra insert 0, new e append left è il tempo di esecuzione. Nel senso che per come è implementata l'ALDEC il tempo di esecuzione di un append left o una sinistra a destra è uguale. Cioè è indipendente dalla lunghezza della lista. E così come anche sia l'insert, cioè sia append left per inserire, sia il pop left per estrarre, per come è implementato internamente il DEC è indifferente. Quindi è come se fosse una lista bidirezionale ma internamente è proprio implementata così, con una lista di elementi che sono concatenati uno all'altro. E quindi basta, si può navigare internamente, lui la può navigare in un verso oppure in un altro, oppure nel verso inverso, nel verso contrario. Cosa costa in un DEC? Beh è costoso reperire un certo elemento. Cioè se io in una lista voglio sapere il settimo elemento scrivo lì s di 7 e mi da l'elemento. Anche in un DEC potrei scrivere s di 7 ma per come è implementata trovare il settimo elemento significa attraversarli tutti, primo, secondo, terzo, quarto, contare fino a 7 saltellando l'ornamento all'altro. È un po' la differenza che avevate in Java tra ArrayList e LinkedList. No? ArrayList era molto efficace, il LinkedList era molto efficace per aggiungere o togliere elementi in testa e in coda a metà ma se lo cercavi per posizione era meno efficiente, viceversa ArrayList per posizione dava elemento subito ma dovendo aggiungere la metà o togliere la metà era più lenta. Noi poi cercheremo più avanti nel corso di formalizzare questi concetti di più lento e più veloce col concetto di complessità. A volte mi è già scappata due volte questo termine complessità però non posso ancora dirlo, non posso ancora parlare in questi termini che ci dà un modo più formale per ragionare su queste cose. Però prima volevamo darvi le nozioni operative per andare avanti e fare i laboratori e quindi la complessità che è un argomento più teorico la posticipiamo più avanti però per farci capire meglio come si ragiona su queste cose. Quindi quando noi vogliamo, abbiamo bisogno di usare una struttura dati a coda quindi first in first out la nostra prima scelta è usare un deck perché abbiamo visto che la lista non funziona o anche se dovessi al contrario la lista non funziona e uno dice ma perché allora devi stare in testa? Puoi stare dal fondo? Sì ma se stare dal fondo devo inserire in testa e quindi mi trovo lo stesso problema di dover fare un insert che deve spingere davanti tutto quando giungo un elemento. Quindi la lista non va bene per fare un FIFO. Un deck non ha problemi. Quindi il deck non ti dà una direzione o un utilizzo preferito. Lei è bidirezionale, ok? Fluida diremmo oggi. E può essere usata in modi diversi. Quindi la posso usare come FIFO se appendo a destra e destrago a sinistra. Quindi uso sempre appende pop left. La posso usare come LIFO se uso appende pop dallo stesso lato. È mia la scelta di quale coppia di metodi usare per capire se la lista la voglio far funzionare in un verso o nell'altro come coda o come stack. Lei fa tutto e fa tutto con uguale efficienza. Non ha preferenza. Normalmente, ma così, visivamente, noi ci vediamo gli elementi arrivare da destra. Quindi tendiamo a usare appende pop left piuttosto che non appende left e pop. Però è una questione di come voi vi visualizzate i dati, no? Chiaramente, in mente. Chiaramente usare una lista, un deck come stack si può usare appende pop però ricordiamoci che appende pop già ce l'abbiamo sulla lista sull'oggetto di tipo lista. Quindi, in quel caso, forse non serve neanche usare un deck. Tanto vale usare una lista, c'è scritto qua. Ok. A meno che non vogliamo dei metodi aggiuntivi che ci sono solamente sul deck. Quindi, vabbè, io una deck la posso creare vuota che è la cosa normale oppure creare a partire da un qualunque iterabile l'iterabile può essere una lista, una stringa o una qualunque altra collection, un qualunque insieme. Quando parlo di iterabile ricordate quando parlavamo di protocolli che gli oggetti possono implementare a qualunque oggetto che implementi il metodo iter che mi dà da un elemento quello successivo. Quindi, una categoria molto vasta di oggetti predefiniti cioè tutte le collection più eventuali altri oggetti nostri a cui vogliamo implementare il protocollo iterabile. Però, in generale, diciamo, una qualunque collezione. La cosa carina è che quando creo una deck posso anche definire la lunghezza massima. Quindi, se io voglio dire guarda, io ho una serie di lavorazioni da fare ma so che è inutile che ne accetti più di 10 allora posso di me dire al deck non accettare più di 10 elementi e quindi quelli successivi non verranno più inseriti. Non ne posso inserire più di 10. Cosa che invece con una lista la potrei fare ma devo controllarmelo io ogni volta. ifLang di lista minore di 10 mentre il deck lo fa già per sua natura. Un modo in cui si usa spesso questa proprietà è quando tu hai un processo che stampa tante cose genera tanti dati una sorta di log continuo delle sue operazioni può essere una macchina operatrice può essere qualche tipo di processo e tu vuoi avere da qualche parte gli ultimi 100 messaggi che hai generato. allora in quel caso puoi usare un deck dimensionato a 100 per cui quando arriva un messaggio nuovo il più vecchio viene buttato via in automatico e non ti va a saturare la memoria perché ne hai sempre solo contanto 100. Ad esempio qui c'è scritto che scarta i più vecchi se ne cerco di aggiungere uno lavorando come coda il più vecchio è quello che hai inserito dall'altro lato. poi ci sono anche qua i metodi extend che già avevamo sulla lista ricordate la lista normalmente potevo fare append per aggiungere un singolo elemento o extend per aggiungere tutti gli elementi di un'altra lista continua a esserci chiaramente perché questa è una lista più potente ma c'è anche un extend left che ti fa fare la stessa operazione dal lato sinistro. poi ci sono cose carine tipo la rotazione la rotazione di una lista di un deck significa prendere l'ultimo elemento toglierlo e rimetterlo e inserirlo dall'altra parte e quindi è come se tu avessi questa lista come una cosa circolare e la fai ruotare in una posizione estrai un elemento e reinserisci lo stesso elemento della prima parte il parametro n ti dice quante volte farlo quindi puoi spostare tre elementi estrai da una parte e inserisci dall'altra serve per implementare meccanismi di turno di turnazione ok questi sono tutti quelli che devo fare adesso tocca a te ti prendo ti considero poi ti rimetto in coda perché poi ti dovrò riconsiderare evita di avere due code no di quelli che ho già fatto di quelli che devo ancora fare che poi dovrò ripendere scambiare ti da una coda unica una cosa circolare praticamente non si chiama cosa che con le liste sarebbe pesantissimo da fare e ovviamente posso accedere al singolo elemento cioè implementa il dunder get item ma c'è scritto qua attenzione che questa operazione è più lenta rispetto all'operazione analogo con le liste e questa è sempre una questione di compromessi cioè quando io ho modi diversi in questo caso strutture dati diverse lista versus deck per fare la stessa cosa avrò alcune strutture che sono più efficienti per certe operazioni e meno per altre e altre strutture che sono viceversa più efficienti sulle seconde e meno sulle prime se fosse più efficiente in tutti gli aspetti l'altra l'avremmo già buttata via invece è utile avere una molteplicità di implementazioni dello stesso concetto perché dipende dai casi quale sia la più efficace per me è chiaro che se io facessi un programma in cui devo accedere tante volte agli elementi di una coda non in ordine cioè non fifo non rifo ma a metà allora questo punto mi conviene un giornalista perché accedere all'elemento intermedio senza cancellarlo senza rimuoverlo ma semplicemente leggerlo mi costa il John Deck più che non chiaramente dall'altra parte mi costerà il pop ma bisogna vedere quanti pop faccio rispetto a quanti accessi diretti faccio quindi dovrò fare un po' di valutazioni è chiaro che queste valutazioni hanno tutto senso non se sto parlando di liste di 10 elementi o di 100 elementi o di 1000 elementi ma quando cominciamo a avere dei numeri grandi allora lì oppure quantità di operazioni grandi allora lì la differenza si sente si sente non solo perché ho più operazioni da fare se la lista contiene più elementi ma se come abbiamo detto prima se certe operazioni hanno un tempo di execuzione che è proporzionale la lunghezza della lista vuol dire che la singola operazione è più lenta perché la lista è più lunga e poi la singola operazione dovrà essere fatta più volte perché la lista contiene più elementi quindi questi due fattori si moltiplicano quindi di fatto tendo a avere spesso una crescita quadratica del tempo di esecuzione con l'aumentare del numero di dati questo lo formalizzeremo quando parleremo di complessità e quando vedremo che quadratico mi lecco le dita perché in realtà di solito è molto peggio e poi ci sono i vari metodi che già abbiamo sulle liste se volete vedere tutti chiaramente qua ho messo il link alla documentazione però questo è un oggetto facile da usare come counter cioè ci trova tanti problemi in poco codice e poi c'è una categoria particolare di code che sono le code prioritarie come vedete qua non vi ho citato scusate che erano qua sulla slide l'iPhone DEC o Q con la lettera maiuscola perché sono anche lì code specializzate quando ho più processi che le usano contemporaneamente quindi vanno bene se ho dei processi contemporanei che devono scambiarsi dei dati attraverso una coda ma nei nostri programmi questo non succede quindi non ce ne stiamo occupando mentre invece le code prioritarie sono un tipo particolare di code in cui gli elementi vengono aggiunti man mano che arrivano ma verranno poi estratti sulla base sulla base di una priorità che è quello di dire priorità vuol dire che ogni elemento lo posso confrontare con gli altri e potrò dire tu sei più importante di lui o meno importante di lui questi metodi dovranno ovviamente se li devo poter confrontare dovranno definire il metodo minore e il metodo sulla base del quale viene scelto chi è il prossimo allora la priorità più alta viene considerato l'elemento minore di tutti il minimo di tutti quindi come potrei implementare una cosa di questo genere con una lista con una lista lo potrei fare dicendo vabbè arriva un elemento lo aggiungo a destra con append e me lo metto in fondo poi quando è ora di strada un elemento cosa faccio calcolo il minimo degli elementi della lista e la funzione min internamente usa il minore e quindi usa il metodo less than che abbiamo definito per i nostri oggetti oppure la funzione min ha il secondo parametro chi come abbiamo visto per il sort quindi posso specificare io qual è la chiave di ordinamento qual è il campo o l'espressione basata sui campi dell'oggetto rispetto al quale voglio calcolare il minimo e quindi il minimo mi dà in realtà mi dà un'informazione che mi serve solo fino a un certo punto perché il minimo mi direbbe il minimo di questa lista mi direbbe uno ok mi fa piacere che il minimo sia uno ma poi visto che questo uno lo devo cancellare devo anche sapere dove si trova questo uno quindi di solito il minimo lo calcolo non tanto sulla lista di elementi ma sulla lista di tuple elemento posizione adesso poi scriviamo il codice per farlo l'idea è trovo qual è l'elemento minimo trovo dove si trova e lo estraggo e lo restituisco a questo punto quella lista non avrà più l'uno e quindi la prossima volta che cerco di estrarre un elemento mi darà il due il più piccolo che c'è in quel momento quindi è una sorta di estrazioni ripetute del minimo dove il minimo dipende appunto da un campo priorità solo che fatto in questo modo col minimo di nuovo è una soluzione che non è molto efficiente perché vabbè aggiungi un elemento in fondo costa nulla trovare il minimo mi richiede di leggere tutti gli elementi tutti e poi una volta che ho trovato il minimo devo cancellarlo e quindi vuol dire che in media seconda dove sarà il minimo sinistra destra metà ma in media devo spostare metà degli elementi della lista di una posizione indietro quindi mi richiede operazioni di nuovo che coinvolgono tutti gli elementi della lista e più la lista è lunga più queste operazioni saranno pesanti allora un altro potrebbe dire vabbè l'idea è ma perché devo fare quando faccio il minimo mi da uno poi subito dopo per trovare che il secondo minimo è il 2 devo di nuovo rileggere tutti questi elementi non posso già che ci sono rimetterli a posto metterli in ordine cioè fare un sort di questa lista fare un sort si può sicuramente io aggiungo un elemento poi faccio sort della lista e questi facendo sort mi saltano fuori dal più piccolo al più grande e quindi il minimo è il primo pop di zero il minimo successivo sarà di nuovo il primo della lista quindi farò di nuovo pop di zero per restare ogni volta il minimo il problema è che ogni volta che arriva un elemento nuovo devo mantenere l'ordinamento degli elementi perché se ho 1,2,3,4,5 e qualcuno mi inserisce 2,5 non la posso appendere in fondo perché avrei una lista che non è più ordinata e allora dovrei mantenere la lista ordinata che vuol dire o trovare il posto in cui infilarlo con l'elemento che non è in fondo ma è a metà del punto giusto e quindi me lo devo cercare il posto oppure lo aggiungo in fondo e faccio un sort complessivo tutte operazioni che di nuovo coinvolgono l'intera lista quindi il problema che le cose prioritarie non è tanto farle funzionare basta un min più o meno ma farle funzionare in modo efficiente e per questo python ci dà due implementazioni e su questo facciamo poi un esercizietto giusto per prenderci la mano visto che sono cose relativamente totalmente nuove rispetto alle altre due implementazioni diverse che sono nate in momenti diversi alla fine nella libreria standard quella di destra che è l'oggetto che si chiama priority queue è un'implementazione ad oggetti quindi vedete che viene creato un oggetto Q usando un costruttore e poi su questo oggetto Q posso fare delle operazioni che tanto per dircelo subito si chiamano put e get la put aggiunge un elemento alla coda prioritaria e non dico aggiunge in fondo a metà all'inizio non me ne frega niente lo aggiunge quello che mi importa è che quando faccio get mi dà il prossimo elemento il più piccolo elemento è l'elemento con massima priorità quindi il put lo metta dove vuole l'importante è che il get mi dia l'elemento minimo ok poi questo get in realtà si chiama get no wait ne esiste anche una versione che si chiama get e basta ma è un po' antipatica perché se faccio get su una lista su una coda che è vuota mi blocca il programma aspettando che prima o poi possa arrivare un elemento nuovo che su programmi che non sono multitasking questo non può succedere mai mentre invece il no wait se non c'è qualcosa me lo segnala quindi è un nome purtroppo un po' lungo ma usiamo quello non usiamo il get semplice perché altrimenti il programma si blocca se cerchiamo di estrarre da una lista vuota cosa che non dovremmo mai fare potremmo chiedere prima la lista ma tu sei vuota allora solo se non sei vuota ti posso fare get ma questo è il dettaglio put e get sono le operazioni che mi offre questo oggetto la stessa cosa la posso fare con un oggetto non è un oggetto è un modulo tip q vuol dire una coda basata su ip che poi vi dico due parole su coda un ip che di fatto sono una serie di funzioni una serie di funzioni che usano un array una lista normale in un modo particolare quindi in questo caso i miei elementi sono in una struttura dati H che è una lista semplice solo sto definendo delle operazioni in più diciamo strane che si chiamano push e pop ma ip push e ip pop su quella lista aggiungendo un elemento oppure da quella lista estraendo un elemento quindi questa non è un'implementazione ad oggetti è un'implementazione ad funzioni questa roba qua mi definisce tre funzioni una per costruire la coda prioritaria una per aggiungere un elemento una per restare un elemento dove però la coda prioritaria è un argomento della funzione non è un oggetto su cui chiamare il metodo poco cambia diciamo così lo stile di programmazione che è diverso ok in questo caso se vogliamo abbiamo forse se ci interessa il vantaggio aggiunto che questa coda alla fine la metto dentro una lista normale quindi se parto da una lista vuota uso push tante volte e mi crea la coda e uso pop tante volte e mi estrae l'elemento minimo della coda questa funzione di p5 mi serve solamente se ho già una lista di elementi esistenti e voglio trasformarla in una coda prioritaria quindi se creo già la coda con tanti elementi dentro cosa che succede abbastanza raramente e poi su questo uso i normali metodi di lunghezza della funzione di gestione della lista quindi ad esempio il lang per dire quanti elementi ho da questa parte si chiama size se la lunghezza è 0 dall'altra parte si chiama empty sono parallele alla fine sono due implementazioni diverse che sotto sotto usano lo stesso algoritmo e questo algoritmo appunto si basa su una struttura dati chiamata heap mucchio che è una struttura dati un po' non ve la descrivo adesso nel dettaglio ma vi do solo un cenno è una struttura dati che è basata di fatto su una rappresentazione gerarchica ad albero di valori parzialmente ordinati cioè tutti i valori che metto dentro vengono messi in un modo che il valore in testa sia sempre il minimo e quando inserisco un valore nuovo lo confronto col minimo e vedo se lui è più piccolo del minimo lo metto lì oppure lo faccio scendere lo metto in posizioni inferiori in modo da avere sempre questa proprietà il primo elemento è quello che sta in minimo il primo elemento che sta in testa è il valore minimo poi in realtà questa struttura dati ad albero che imparrete a conoscere bene quando farete i grafi rifarete i grafi perché l'avete già visti per ragione di efficienza non viene gestita direttamente come un albero ma come una serie di elementi in una lista quindi ciò che fa l'IPQ è quello di gestire quando aggiungi un elemento in una lista lo aggiungi in una posizione particolare cioè gli elementi in una lista se li guardi non sono in ordine di inserimento se fossero in ordine di inserimento dovrei fare il minimo ogni volta e non lo voglio fare non sono in ordine di valore dal più piccolo al più grande se li mantenessi in ordine di valore dovrei ogni volta che arrivi un nuovo elemento riordinare l'intera lista ma sono in un ordine per cui il primo elemento è sempre il minimo e gli elementi successivi seguono una regola un po' strana per cui l'elemento in una posizione 3 è più piccolo dell'elemento in posizione 6 e rigolo in posizione 7 cioè il doppio è il doppio più 1 è una regola strana se vogliete la studiamo ma adesso non ci serve ci serve capire che lui gestisce una lista mettendo gli elementi in un ordine particolare per far sì che l'operazione di aggiungere un nuovo elemento e rimuovere il minimo siano più efficienti che non una struttura puramente sequenziale e quindi di fatto queste operazioni poiché devono mantenere un ordinamento ovviamente hanno un tempo di esecuzione che cresce col crescere della dimensione della lista ma cresce in modo solamente logaritmico quindi anziché essere proporzionale alla lunghezza della lista è proporzionale al logaritmo della lunghezza della lista e voi vi ricordate meglio di me che il logaritmo all'inizio no ma dopo un po' comincia ad essere molto piatto come crescita quindi anche quando si allunga la lunghezza della lista molto di fatto rimane quasi costante o cresce molto poco rispetto ad altri tipi di crescita e per questo motivo è considerata la struttura dati lo HIP è considerata la struttura dati più efficiente per fare questo tipo di giocattoli tipo cose prioritarie proviamo un po' a vederla su un esempio il pietto giusto per familiarizzarci facciamo un piccolo progettino in cui parliamo di code prioritarie così ci familiarizziamo con queste strutture dati così caro prendiamo un file python code.py ok allora io non mi ricordo mai la combinazione ecco la combinazione di tasti per farlo più grande allora immaginiamo di avere degli elementi che vogliamo aggiungere o togliere ok allora l'implementazione semplice di una coda potrebbe essere mi faccio una classe mia no? io posso fare una classe coda no? che cosa conterrà se me la dovessi fare io metto gli elementi in una lista definite gli elementi in una lista avrò un self punto lista che inizialmente è vuoto no? e poi potrei aggiungere dei metodi che chiamiamo le push e pop così somigliano a quelle delle cose prioritarie quindi def push self valore e cosa farà? sarà self punto lista underscore lista punto append valore e ovviamente il lavoro lo farà tutto il metodo pop cosa deve fare il metodo pop? deve trovare il minimo restituire il minimo e nello stesso tempo cancellarlo ok? e questo vogliamo che si comporti come una coda prioritaria quindi che è una coda prioritaria così anzi con l'underscore che piace di più in python è la mia implementazione poi dopo proviamo a vedere come si comporta invece con le altre implementazioni allora il metodo pop cosa fa? restituisce scriviamolo per sicurezza restituisce il valore minimo presente nella lista e lo cancella dalla lista testa allora il valore minimo presente nella lista in realtà lo posso trovare valore minimo facendo il min di self.list e mi da il valore l'oggetto il cui valore è minimo allora ricordiamo che la funzione min lavora su sull'operatore minore tra gli oggetti quindi andrà a confrontare col minore tutti gli oggetti che ci ho messo dentro e troverà il più piccolo questo è il valore che devo restituire e nel frattempo lo dovrò cancellare ok allora lì questo idiota dell'autocorretto dell'intelligenza pseudo suggeriva cosa mi ha suggerito questa cosa qua che avevamo già discusso la volta scorsa che non era molto furbo andare a cercare un elemento e poi andare di nuovo a cercarlo per poterlo cancellare tanto vale che quando trovo il minimo mi trovi già la posizione il minimo così posso almeno fare un pop della posizione il minimo che è più efficace rispetto a fare un remove perché il pop mi dice cancella l'elemento la posizione 3 lo devo cancellare e spostare tutti gli altri il revue mi dice cancella l'elemento che vale 7 allora lui va a cercare dall'inizio dove trova il primo 7 e poi dopo fa il pop però fa una ricerca in più quindi alla fine è il doppio più lento remove rispetto in più mentre fa questa ricerca va a fare tante volte i confronti quindi la funzione equal viene chiamata tante volte la posizione del minimo come la posso trovare però posso fare volendo mi faccio il ciclo for per andare a cercare la posizione del minimo a mano ma se no posso trasformare la lista in una la lista di valori in una lista di tuple chiave valore indice valore non so se vi ricordate c'è un metodo enumerate cosa fa enumerate se la mia lista mettiamolo come esempio se la mia lista fosse 2 5 7 9 mettiamoci dei numeri questa è la lista l'enumerate restituisce cosa una lista con lo stesso numero di elementi quindi in questo caso avrebbe 4 elementi questi elementi sono tuple tuple fatte dal primo elemento che è l'indice quindi 0 1 2 3 e il secondo elemento che è il valore quindi la copio da sopra 2 5 7 9 quindi in un'unica lista ho sia l'indice che il valore comodo perché a questo punto dice va bene io estraggo il 2,7 magari estraggo posso conoscere sia il valore che che l'indice in un'unica tupla quindi potrei dire che questa cosa qua faccio il minimo di questa lista di tuple poi per carità non posso fare il minimo di questa lista di tuple perché nel confrontare le tuple qual è l'algoritmo di confronto delle tuple? confronto il primo elemento e parità del primo elemento confronto il secondo il primo elemento qual è? l'indice e quindi vincerebbe sempre il primo perché è sempre 0 il primo gli altri saranno 1,2,3,4 cioè non va bene io devo confrontare queste tuple sulla base del secondo elemento non del primo non devo trovare l'elemento che ha indice minimo quella bella forza è lo 0 devo trovare l'elemento che ha valore minimo e poi però farmi restituire non solo il valore ma anche l'indice in cui si trova quindi a questo posso usare il secondo parametro di min che è il key che mi permette di impostare qual è la chiave rispetto al quale lui deve andare qual è il valore che devo usare per fare i confronti di minoranza è il secondo elemento della tupla quindi se vogliamo scrivere una lambda possiamo scrivere la tupla t o le restituiscimi il secondo elemento oppure per chi piace usare item getter scriveremo item getter di 1 operator.itemgetter di 1 è la stessa cosa dato il singolo elemento prende il secondo campo 1 che è l'indice del secondo campo quindi quello che stiamo facendo qui è di dire senti prendiamo la lista che è solamente una lista di numeri trasformiamola in una lista di tuple facciamo le operazioni di minimo non su queste tuple quindi i confronti non vengono fatti su queste tuple ma sulla trasformazione usando la funzione chiave di ciascuna di queste tuple quindi la trasformazione che cosa mi da mi da sulla primo elemento che è la coppia 0,2 mi darà il secondo elemento della coppia quindi 2 poi sul secondo elemento che è la coppia 1,5 mi darà il secondo elemento della coppia che è 5 poi mi darà il secondo elemento della terza coppia che è 7 e il secondo elemento della quarta coppia che è 9 quindi è la lista su cui su cui calcolo il minimo dopodiché uno arriva qua e dice ma sei scemo allora scusa cioè hai preso questa lista hai fatto un enumerate poi su un enumerate hai fatto un lambda per trovare la lista di partenza ma non potevi tenerti la lista di partenza no perché la funzione chiave agisce nel confronto ma la funzione min agisce sul valore sull'intero valore quindi quello che salta fuori non è solo io qua ho fatto una lista scema perché è crescente scusatemi non me ne sono reso conto diciamo che questo 7 diventa un 1 ok così è lui il minimo quindi quello che uscirebbe se facesse min della lista è 1 e poi non so dov'è il 1 quello che esce da qua sarebbe la tupla 2,1 il min mi dà l'elemento quindi l'elemento è un completo l'oggetto completo il cui valore della funzione che chiave è più piccolo quindi ordino oggetti ordino è un minimo quindi non è proprio un vero ordinamento ma considero l'ordine di oggetti interi valutando per ciascuno una funzione di riduzione diciamo che mi dà il valore da confrontare tra tutti i vari campi di quegli oggetti lì quindi questo è un idioma abbastanza frequente in cui grazie a una lista e calcolo contemporaneamente il minimo il massimo e la sua posizione e questo ovviamente mi restituisce che cosa? una tupla questa tupla sarà fatta della posizione del minimo e del valore del minimo quindi posso dare una segnazione doppia tupla viene segnata in una tupla di variabili che salvo in un botto solo la posizione e il valore del minimo a questo punto avendo la posizione posso distruggere quella posizione fare pop di quella posizione che in questo caso è 2 quindi distrugge il terzo elemento della lista ma in realtà questo elemento me lo sono salvato anche valminco il riferimento che posso ritornare il chiamante questa cosa come funziona? beh proviamo a usarla questa cosa prioritaria buttandoci dentro appunto ad esempio dei numeri quindi il mio programma principale potrebbe fare così crea una cosa prioritaria comincia a metterci dentro delle cose ci mette dentro 2 facciamo lo stesso esempio put c.put di 5 c.put di 1 poi estraiamo un valore c.pop lo stampiamo poi possiamo aggiungere un altro un 3 magari e poi estraiamo 2 3 valori quindi metto dentro dei numeri in ordine 2 5 1 3 e se va bene lui me li stamperà non va bene as not attribute put come l'ho chiamato? ah push no va bene put è un put l'ho scritto più volte qui non mi ricordavo scusate numeri non è un attributo di lista ma è una funzione ok ok adesso va e mi ha estratto i valori in ordine dal più piccolo al più grande ovviamente ogni volta mi dà il più piccolo che era stato inserito fino a quel momento io sto non sto mettendo tutti i dati in una lista e poi li sto estraendo li sto estraendo tutti adesso qua non si vede tanto ma sto mescolando inserimenti ed estrazione quindi la lista per ora avrà zero elementi poi ne ha uno poi ne ha due poi ne ha tre poi ne avrà di nuovo due poi ne ha di nuovo tre e così via adesso qua non ho gestito molti casi per cui se io provassi ancora stampare un altro elemento e non se lo trova mi dirà una cosa brutta mi dirà una cosa brutta dice ma scusa mi hai chiamato il metodo pop ma non ho niente nella lista quindi come faccio a fare il min di una lista vuota chiaramente non è il tipo di eccezione che io mi aspetterei dovrei andare a controllare prima di fare quel min se la lista è vuota o no quindi devo aggiungere un po' di controllo dell'errore perché questi metodi verifichino se i dati che gli passiamo sono validi questo se lo dovessimo fare noi e come vi dicevo questa operazione qua sia il calcolo del minimo sia il pop sono operazioni che su strutture dati con molti elementi possono essere più faticose ma al di là di questo se io volessi metterci dentro degli altri tipi di dati qui ci ho messo dentro dei numeri ok se volessi metterci dentro degli oggetti può funzionare si no se ci metto dentro delle stringhe lui me le terrerà fuori in ordine alfabetico dalla più piccola alla più grande se ci devo mettere delle lavorazioni che sono rappresentate come un oggetto dovrò definire un criterio di uguaglianza sull'oggetto lavorazione da fare la funzione minore però non sempre la funzione minore che definisco sull'oggetto coincide con la priorità che gli voglio dare immaginiamo di voler inserire dentro delle persone ok allora Paolo Giulia Antonio e Anna ad esempio e funziona ovviamente ah no devo togliere questo funziona ovviamente e me le sampa in ordine alfabetico in questo caso ma siamo sicuri che la priorità sia l'ordine alfabetico se io volessi ordinare queste quattro persone ma assegnare questa è una priorità che è indipendente dal loro nome e poi se ti chiami Ugo non è colpa tua che devi passare per ultimo quindi questa priorità magari viene data da altri criteri come posso fare a usare una struttura dati di questo genere con una criterio di priorità che è diverso dalla comparazione naturale dell'oggetto che sto inserendo nella lista cioè io voglio dire che magari le donne devono passare prima rispetto agli uomini e quindi tutte le donne hanno una priorità uno e tutti gli uomini hanno una priorità due ok poi a parità di priorità viene chi viene dove la metto questa informazione ce lo dice la slide in un pezzo che non avevamo guardato ci dice possiamo creare mette nella coda non i valori nudi che a questo punto verrebbero fuori ordinati per il loro valore alfabeticamente ma una tupletta che abbia come primo campo la priorità come secondo campo il valore e come primo campo la priorità lo metto per primo perché chiaramente nell'algoritmo del simbolo minore tra tuple vado prima a confrontare il primo campo quindi se io volessi gestire questa coda di nomi che vengono poi chiamati agli sportelli delle poste dicendo che gli uomini passano dopo darò priorità due agli uomini e priorità uno alle donne quindi a codo degli elementi che sono non i valori ma delle tuple priorità quindi la priorità risulta molto esplicita quindi Paolo Giulio Antonio se aggiungono questo pop chi farà uscire? deve far uscire Giulia poi aggiungo Anna e questo pop chi farà uscire? Farà uscire Anna spero e poi questi altri due pop faranno uscire Paolo e Antonio anzi prima Antonio e poi Paolo perché a parità del primo elemento vado a vedere il secondo e infatti è così tra Giulia e Anna esce prima Giulia perché al momento in cui ho cercato di far uscire Giulia Anna non c'era ancora se no avrebbe vinto lei per ordine alfabetico tra Antonio e Paolo c'erano entrambi e escono fuori a pari priorità con l'ordine alfabetico quindi questa struttura adesso l'ho implementata con una classe che abbiamo buttato giù in 448 però questa stessa cosa la potremmo implementare usando la classe anziché la coda prioritaria che ho fatto io la classe priorità e funzionerebbe nello stesso modo è solo più efficiente rispetto a quelle 4 cose che ho scritto io se volessi anziché questo scriverei c uguale c uguale priority q qe ue dai ce la farò scriverlo qe ue e me lo faccio importare da no non da coda q punto priority q eccola qua devo sempre fare attenzione a importare cose giuste ok chiaramente l'import q me l'ha messo sì me l'ha messo davanti perfetto e quindi potrei fare la stessa cosa la classe priority q ha i metodi che si chiamavano put e get quindi non si chiama pop ma si chiama get in questo caso scusatemi dimentichiamo questa e dovrebbe funzionare nello stesso modo semplicemente usare una priority q anziché farmi l'implementazione dell'oggetto fatto da me beh faccio prima perché l'oggetto è già fatto ed è più efficiente però il meccanismo ho voluto implementarlo perché così capiamo bene qual è il meccanismo di funzionamento di queste cose una struttura di questo genere è fondamentale quando uno va a simulare dei processi simula un processo appunto simula degli studenti che arrivano in un'aula si siedono in un ordine poi escono una coda in un ufficio quindi un tasso di arrivo un tasso di estrazione o una un impianto produttivo fatto di più stazioni e queste stazioni si passano in lavorazione da una all'altra quindi alcune possono essere gestite in modo sequenziale quindi con una coda fifo alcune possono invece essere gestite in modo prioritario guarda se qui ho una serie di lavorazioni o di semi lavorati prendo prima questi perché ho la scadenza più vicina o perché è un valore maggiore o perché intendo massimizzare qualche cosa quindi tutte le volte che gestisco di questi processi simulo simulo o gestisco c'è un software che gestisce la produzione deve decidere chi va a dove oppure magari sto pianificando qualche cosa quindi mi serve implementare un simulatore che mi permette di studiare come si comporta un sistema e allora lì mi devo inventare la priorità tipicamente spesso è la variabile tempo cioè chi arriva prima chi arriva dopo sto simulando tante cose che succedono contemporaneamente devo elaborarle in ordine di tempo ho le scadenze qual è la prossima cosa da fare soprattutto le cose che devo fare la prossima che devo fare sarà quella che scade prima o la cui scadenza più il tempo di lavorazione è minore quindi posso avere delle funzioni di priorità che sono funzioni sia del tempo che dei valori non tutto viene elaborato in modo sequenziale spesso le cose vanno elaborate sulla base del loro valore della loro importanza e questa è una struttura di dati specializzata di nicchia diciamo così fa quel lavoro lì fa quel lavoro lì bene non chiedergli di darmi il settimo elemento perché te lo dà ma troverà in modo poco efficiente ma se gli chiedi di darti ogni volta il prossimo e tu hai impostato bene le priorità allora lavora bene su questo quindi anche questa è una coda ma non è una coda fifo perché non si vada solo sul tempo di arrivo sull'ordine di arrivo bensì sui valori dei dati quindi questo era quello che volevo raccontarvi oggi dopodiché vi lascio per una certa serie di settimane o mesi nel senso che dalla settimana prossima imparerete a costruire le interfacce grafiche e poi agganciare questi programmi che per ora sono di base python su strutture di dati interne agganciare un database questo subito dopo Pasqua e fare esercizi diciamo così su quel si avvicina e cominciano a avvicinarsi a programmi completi come quelli che faremo l'esame e questa parte verrà fatta dai colleghi che sono Carlo e Giuseppe quindi per diverse settimane di fatto porteranno avanti loro questa parte del corso anche se non ci vediamo più due volte alla settimana comunque rimaniamo sempre in contatto anche nel gruppo per qualunque esigenza dopodiché conoscerete anche già conosciuti parte in laboratorio gli altri colleghi che portano avanti il corso anche loro negli anni precedenti l'abbiamo fatto insieme quindi non c'è nessun problema di continuità da questo punto di vista anche se non sarò io la voce parlante in questa in quest'aula semi sepolta ok vi lascio liberi se avete ancora forse se avete ancora appetito ci sta ancora un panino prima della prossima lezione grazie a tutti grazie a tutti